Il fatto che non ci si diverte più, voi direte cosa vuol dire divertirsi? Io lo dico sempre ai miei studenti all'università, dico alla fine divertitevi e io vedo subito sui vuoi e dice ma cosa vuol dire il professore impazzito vuole che andiamo in discoteca perché la gente dice ah lo so che voi pensate così ma perché non avete studiato il latino? Divertirsi deriva dal latino divertere e in latino divertere cosa vuol dire? vuol dire uscire da se stessi per incontrare il volto dell'altro allora divertirsi vuol dire uscire da se stessi, quando uno è triste io consiglio stai due o tre ore, dimenticati, esci da te stesso, incontra, incroci il volto dell'altro e vedrai che la tristezza dopo un po' scompare, così si è prestato e deve continuare ad essere grazie per la vostra attenzione